Siamo al 43esimo minuto. Aviezzonetti, prova ad andare via, vai Avie, vai Avie, poi il traversone in mezzo e ancora retroguardia che respinge, Re Copa. Gol, incredibile, incredibile, non credo, non credo, 3-2, Re Copa, Re Copa. La tabella, la tabella, la tabella, la tabella, la tabella, eccola lì, guardate.